76.396,44 euro, a tanto ammonta la generosità dei piacentini. Quando il quotidiano Libertà chiama, i lettori rispondono e dimostrano tutto il loro cuore grande, la loro generosità. È un segno di grande concretezza e generosità che il giornale ha attivato. Il merito pratico è dei lettori che hanno creduto in questa possibilità e si sono sentiti toccati dall'esigenza di un lembo di territorio, dove magari tanti non hanno mai neanche messo piede, un lembo di territorio privato di diritto pieno alla protezione della salute. Confesso che io, quando abbiamo cominciato, non avrei creduto che in così poco tempo si arrivasse al risultato. È una bella notizia. Un assegno che lei consegna, lei come gruppo, come editoriale Libertà, consegna nelle mani del presidente di Croce Rossa. Una grande soddisfazione, ma anche una grande sorpresa. E dietro a questa generosità ci sono anche tante storie che toccano. Sì, una grande gioia direi, perché grazie a questa iniziativa di libertà e grazie ai lettori abbiamo la possibilità di acquistare un mezzo avanzato per la comunità di Ottone e per i nostri volontari, ma anche per tutti gli abitanti. Grazie al traino comunque di questa iniziativa, altre 15 persone che abitano lì, in zona, hanno chiesto a Croce Rossa di poter partecipare a un corso per entrare nella nostra associazione. Ecco, quindi avremo poi tanti altri volontari che daranno una mano anche loro sull'ambulanza acquistata grazie a Libertà e ai suoi lettori. Grazie. Grazie. Grazie.